Direttore Guariglia, una battipagliese che ha reso piccola l'Audax Cervinara. Ma è una grande battipagliese la verità questa, finalmente è una grande vittoria. Per la verità la meritiamo da parecchie partite, voglio dire che questo se non erro è il sesto risultato utile consecutivo. Potevano essere anche tutte vittorie perché la battiglia si è espressa alla grande. Ha avuto sempre tante occasioni, ha creato andamolo di gioco, per la verità oggi sono arrivati quattro gol, siamo molto contenti per i nostri tifosi e veramente sono contento e convinto del fatto che la battipagliese sta presentando un percorso importante quando siamo arrivati noi. Abbiamo rimesso in sesto la squadra da un punto di vista atletico, adesso anche da un punto di vista del gioco. Oggi la battiglia sta giocando un calcio spettacolare, ha giocato a calcio come forse non ricordavamo da parecchie a battipaglia. Quindi veramente faccio i complimenti al mister Viscito e a tutti i ragazzi. Direttore però se vado ad analizzare un attimo la partita vado a cercare un attimo il pelo nell'uovo. Inizio partita, la battipagliese fa un grande inizio di partita, poi la prima azione del Cervinara, un'ennesima disattenzione della fase difensiva in questo caso con Consiglio che ha perso palla, subiamo gol. Vabbè sono episodi, il calcio ha fatto episodi, un piccolo errore ci ha puniti, però poi la squadra si è messa sotto, ha reagito e ha fatto una grande partita. L'episodio ci può stare, come domenica è successo a Rocchina, siamo stati sfortunati che abbiamo preso gol, domenica e oggi è successo a Stefano, però va bene così, siamo veramente molto contenti. Direttore, adesso l'ultima partita a San Giorgio contro il Castel San Giorgio, oggi dà dei risultati anche favoribili alla battipagliese. Adesso io quello che mi auspico è che ognuno faccia il proprio dovere, ognuno gioca le partite come debba giocarle, come l'ultima partita e come la sana convenzione sportiva, ognuno faccia la partita sia in casa che fuori, anche perché bisogna rispettare i valori dello sport, per i quali noi proprio chiamiamo per i giovani e per tutto l'apparato calcistico, quindi ognuno faccia il proprio dovere, ognuno faccia la partita e alla fine si diranno i conti. Io mi auguro che la battipagliese salvi perché lo merita questo pubblico, lo merita questa società, perché non ci dimentichiamo che questa società è stata lasciata all'abbandono da tutti e tutti, siamo soli contro tutti un po' da questo punto di vista, quindi siamo veramente fieri ed orgogliosi del fatto che il nostro pubblico ci segue in massa e vorremmo dare tanta tanta gioia a questi tifosi. Mister Giuliano, l'Audax Cervinale parte bene, passa in vantaggio, poi accusa il ritorno dell'abbattipagliese. Sì, siamo partiti bene, abbiamo fatto gol, poi abbiamo avuto un periodo della partita come se ci fossimo addormentati, abbiamo subito gol su punizione, poi al secondo tempo abbiamo cercato di vincerla la partita, abbiamo preso un altro gol, il 2-1, su un errore nostro, poi ho cercato di buttarmi avanti, però abbiamo preso gol con ripartenze, sempre che con errori nostri, comunque è una partita sbagliata, quindi alla fine meritiamo questa sconfitta. L'Agropoli che batte il Sorrento con un'eventuale vostra vittoria avrebbe riaperto completamente il campionato per la vittoria finale? Non lo so, forse è il secondo posto, però penso che l'Agropoli adesso non si faccia scappare, la vittoria in casa con l'ultima mi sembra che gioca con il Valdiano, che non ha niente più da chiedere a questo campionato. Il problema del Sorrento è che andrà a giocare con la Virtus, che penso che gli servirà ancora qualche punto. Noi con l'eventuale vittoria qua potevamo aspirare a un secondo posto, poi come sono andati oggi i risultati, però meritiamo questa sconfitta, quindi dobbiamo rialzarci e pensare ai play-off. Pasquale Manzo, il vero artefice della vittoria della battipagliese di oggi, due gol, che sensazione hai? Era da tanto che non segnavi? No, soprattutto erano i primi due gol, non era tanto, moltissimo, però non sono artefice, perché l'artefice è sempre il gruppo, la squadra che ci mette sempre tutto l'impegno, anche durante la settimana facciamo vedere che lavoriamo, il mister comunque ci fa tanto lavorare e noi ci stiamo dietro, e quindi questi sono i risultati. Sesto risultato utile consecutivo, dove avete capito che la battipagliese poteva fare un finale di stagione così eclatante? Non l'abbiamo capito, già ce l'avevamo, però era nascosto. Poi, ripeto, con il lavoro, con la giusta cattiveria che ci mettiamo sia durante la settimana che in partita, e si vede, questi sono alla fine i risultati di tutto ciò. Domenica a Castel San Giorgio per continuare e soprattutto per provare a scalare quella posizione necessaria che possa servire alla battipese per giocare il play-out in casa. Ma noi andiamo lì a giocarci la partita, come facciamo tutte le domeniche, poi noi giustamente andiamo in campo per vincere, poi quello che verrà, verrà.